Per accedere a Darwin Books è necessario collegarsi a OneSearch e nel menu delle banche dati inserire il titolo Darwin Books. OneSearch offre così l'accesso online alla risorsa. Cliccando sul link si accede direttamente alla piattaforma che mette a disposizione oltre 1500 titoli di vari editori. Al momento l'Università di Firenze ha accesso agli e-book dell'editore Il Mulino. Ci si autentica come Università di Firenze ma facendo una registrazione gratuita l'utente può utilizzare alcuni servizi a lui dedicati come le reading list, i segnalibri e gli appunti. Si può fare una ricerca per autori, per volumi inserendo autore e titolo o per argomenti. La sociologia ad esempio è analizzata da vari punti di vista. Se scelgo sociologia della comunicazione posso consultare i vari volumi che la piattaforma mette a disposizione su questo argomento. Individuato un volume che mi interessa clicco sull'icona. Darwin Books consente di aggiungere il volume alla reading list, offre una citazione, alcuni apparati come abbreviazioni e bibliografia, la possibilità di consultare l'indice del volume e di accedere al libro. Cliccando su Leggi il libro si arriva al testo. Sulla sinistra c'è l'indice navigabile. Nella parte centrale della pagina il testo con a sinistra in piccolo, in rosso, i numeri delle pagine corrispondenti all'edizione cartacea, utili per la citazione. Sulla destra alcuni servizi offerti dalla piattaforma. Posso ad esempio inserire un segnalibro oppure posso evidenziare una frase e aggiungere un appunto. In questo modo la piattaforma evidenzia la frase che io ho voluto sottolineare e mi ricorda che per me è importante. Posso anche stampare una pagina del libro, il capitolo o scaricare in formato e-pub il capitolo del volume. Tornando alla piattaforma, dalla home page si può fare anche una ricerca avanzata. È una ricerca complessa che presuppone si siano individuate alcune parole chiave inerenti al nostro argomento. Inserendo queste parole chiave, ad esempio comunicazione politica, posso fare una ricerca nel testo, nella bibliografia dei volumi oppure nell'abstract. Posso anche utilizzare i filtri che la piattaforma mette a disposizione. Do il via alla ricerca e la piattaforma mi restituisce i volumi che parlano di questo argomento e che io posso consultare.